Tragedia nel giorno della chiusura del santuario della Madonna del Monte Gelbison a Novivelia. A seguito di un improvviso malore, una donna di 70 anni, Antonietta Carrozza, è deceduta sul colpo. Doveva essere per lei una giornata di feste e di preghiera, come per tanti fedeli, giunti come da tradizione a dare l'ultimo saluto alla Vergine, prima della velatura delle figie e della chiusura del luogo di culto per l'inverno. La donna era partita presto dal suo paese, Altavilla Silentina, per raggiungere il Sacro Monte in compagnia del marito e di alcune persone. All'improvviso, mentre era in chiesa, si è accasciata al suolo e per lei non c'è stato nulla da fare. Il tempo necessario all'ambulanza rianimativa della misericordia, pur partita tempestivamente da Vallo per raggiungere il monte, non ha consentito di intervenire rapidamente. Quando i sanitari hanno raggiunto la donna, purtroppo era già morta. Dolore sconcerto tra i tanti fedeli presenti al santuario, il vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Calvosa, durante la funzione religiosa di mezzogiorno, ha espresso vicinanza alla famiglia della donna sconvolta dall'accaduto. La vicenda ha riproposto la necessità di rivedere il sistema di emergenza-urgenza nel Cilento, anche attraverso la più volte richiesta Eliambulanza. La sua partenza da Salerno o da Napoli, come avviene di solito, non avrebbe comunque consentito tempi più celeri rispetto a quelli impiegati dall'ambulanza a partita da Vallo. Di qui la necessità di rendere il Cilento autonomo, anche da questo punto di vista. Cordoglio, nella comunità di Altavilla Silentina, alla diffusione della notizia Antonietta Carrozza era molto conosciuta in quanto storica proprietaria del vecchio bar di Falagato e del panificio San Gerardo. Nel pomeriggio le esequie nella chiesa di Borgo Carilia.